28 milioni di euro, dove sono i progetti? Non esistono. L'amministrazione comunale di Siracusa, voluta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, con una conferenza stampa, ha stormbassato sui 28 milioni di euro assegnati al Comune Reduseo, ma si è dimenticata di mostrare i progetti da realizzare. Lo dichiarano Vincenzo Vinciulla e Vincenzo Salerno. Sorgono quindi spontanee alcune domande. Dove sono i progetti? Chi sono stati i progettisti? Si tratta di progetti o invece solo di idee progettuali? Esiste una traccia di questi progetti nel triannale del Comune di Siracusa e dal momento che i progetti non esistono, hanno proseguito Vinciulla e Salerno, come verranno assegnati gli incarichi? Esiste un bando a cui tutti i tecnici potranno partecipare? Verrà fatto un bando come prevede la legge oppure si ricorrerà al solito, al sistema del intuito persone. Questi progetti tre o quattro anni fa potevano essere realizzati con il personale comunale interno, spendendo solo il 2%, ma non è stato così. Adesso ci sarà la corsa agli incarichi, come è avvenuto per l'edilizia scolastica, con la differenza che con questo metodo il costo aumenterà in maniera considerevole. Così infatti si sperperà il denaro pubblico. Non attendiamo risposte, hanno concluso Vinciulla e Salerno, perché come sempre dal Vermexio non hanno né il coraggio né la possibilità di smentirci.